Sono Valentina, ho 22 anni e vengo da Modena. Sono una cantante e quest'anno ho fatto X Factor in Italia e sono venuta qui alla East London per migliorare il mio inglese. Londra è una città bellissima, per un artista è una città molto giusta secondo me dove poter andare a vivere, anche per un periodo e poi si respira proprio la musica dappertutto. Questa scuola mi è piaciuta molto e sono riuscita, anche se per un breve periodo, a rinfrescare il mio inglese e a imparare anche magari termini che prima non conoscevo. Gli insegnanti sono tutti molto disponibili, nella classe mi sono trovata bene e quindi è stata una bellissima esperienza. La sede di AC London, qui a Houston, è comodissima perché in veramente poco tempo con la metro ti puoi spostare in tutta Londra. L'inglese, poi è una delle lingue che penso dopo lo spagnolo sia quella che si parla di più al mondo e quindi io che canto anche in inglese, che adoro cantare in inglese, per me è proprio un valore aggiunto che non può mancare nella mia formazione. Grazie a tutti.